Ora abbiamo firmato un adempimento, il grande progetto come è noto è già conosciuto, è già in discussione per alcuni aspetti, è già operativo, il grande progetto che rilancia è il primo datore di lavoro della nostra regione che è il porto di Napoli, ma è tutta la portualità che è strategica per l'intero Mediterraneo, quindi molto di più anche della nostra sola regione. Io devo solo ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto all'inizio, in particolare l'ammigliaglio d'Assatti per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo per garantire tutte quelle fasi, quei passaggi operativi di un progetto molto atteso alla regione e mi fa piacere ricordare che questo è un progetto che è stato preso come modello, è uno di quei progetti pilota, modello che è adottato dall'accordo fatto tra governo e regioni, quindi ogni regione meridionale aveva tra i tanti grandi progetti, quelli più significativi. La regione Campania, come sapete, aveva Pompei, che però è gestito dalle autorità di gestione nazionali, anche se sono un'idea della regione Campania, una nostra idea con fondi previsti per la nostra regione, e l'altro, quello più complesso, più importante, più significativo, che è tutto il tema della portualità in Campania, in particolare il grande progetto Porto di Napoli.